Come è possibile che un cellulare esploda? Intanto va detto che il cellulare di fatto non esplode. Quello che succede realmente è che la batteria viene bruciata rapidamente. Per capire come sia possibile bisogna capire come è fatta una batteria. La batteria genera corrente elettrica, che è un flusso di elettroni. Per generare questo flusso vengono usate due piastre di metallo immerse in un liquido. Queste piastre si chiamano anodo e catodo. Questi devono essere necessariamente separati. Se vengono a contatto la batteria brucia. Le batterie degli smartphone sono degli oggetti piatti. Può capitare allora che la membrana che separa anodo e catodo si rovini. Ovviamente questo non dovrebbe succedere. Se succede la colpa è del produttore dello smartphone. In quanto questo è un evento dovuto ad un difetto di fabbricazione.